Da 33 anni al fianco della Cremonese, con i suoi 160 iscritti, il Club Grigio Rosso di Castelleone, presieduto da Emanuele Dusi, rappresenta una solida e viva realtà che ha tenuto duro anche una volta terminati i tempi d'oro di Luzzara. Presenti in ogni trasferta, anche sui campi della Lega Pro, i suoi soci seguono da sempre e con immutato amore le sorti della squadra del cuore, riunendo anche tifosi che vivono nelle province limitrofe. Fondato nel 1981, ieri presso la sua sede il ristorante Don Felipe, il Club Grigio Rosso di Castelleone ha offerto come tutti gli anni ai suoi tesserati una cena per festeggiare le eminenti festività natalizie. La macchina organizzativa, gestita con grande passione dagli infaticabili Claudio Guardavilla, Ivan Brazzoli e Gigi Valesi, è riuscita come sempre a riscuotere un grande successo, richiamando per l'occasione un centinaio di persone che hanno gremito la taverna del Don Felipe. Ospite d'onore, come da tradizione, una delegazione di giocatori e staff della Cremonese, da mister Giampaolo, accompagnato dal suo vice Micarelli, al DS Gian Marioli, passando per bomber Brighenti, Alessandro Marchi, Bassoli e il giovane portiere Battaiola. Senza dimenticare il team manager Bettoli e il responsabile marketing a Levi. Non si è voluto perdere la serata nemmeno il sindaco di Castelleone, Pietro Fiori, che ha portato con sé un cimeglio degli anni Ottanta, quando seguiva la Cremo dalla Curva Nord, da mostrare i presenti con orgoglio. E poi Don Alberto Mangili, sempre vicino ai colori grigiorossi, che è intervenuto per un breve momento di preghiera. Una serata davvero ben riuscita. Tra fotoricordo e autografi, a riscuotere grande successo è stata la consueta lotteria, che ha messo in paglio tantissime maglie, materiale tecnico e gadget ufficiali dell'USC. E a fine serata c'è stato spazio per premiare anche il tesserato più giovane e quello più anziano, Giovanni Guardavilla, 89 anni, portati benissimo. Nell'aria si respirava grande entusiasmo per la recente vittoria di Como, un fattore che ha contribuito a rendere ancora più piacevole la serata. L'appuntamento ora è per lunedì sera, quando per la sfida contro la Propatria i grigiorossi potranno naturalmente contare sul sostegno del club castellonese. Qualcuno tifferà dagli spalti dell'Ozzini, altri davanti al televisore, tutti accomunati però da un unico grande amore, quello per la Cremonese.